Grazie. Procediamo per la verifica del numero legale. Signori, io vi inviterei a prendere posto e quantomeno a interrompere le discussioni. Grazie. Lozzi, Arabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, manca il numero legale, dunque dobbiamo attendere la mezz'ora di prassi o meglio da regolamento per la verifica successiva in seconda battuta. 9.30 ovviamente essendo aperta alle ore 9 si riprocede col computo del numero legale. I consiglieri sono pregati di prendere posto, così possiamo cominciare. Allora, avete tutti preso posto? Possiamo iniziare? Mi è stata fatta, sì, una richiesta? Ah, avevano... ok. Sì, facciamo l'appello per vedere se c'è il numero legale che sembra esserci. Ok, facciamo l'appello, procediamo all'appello. Grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Il numero legale c'è, 22 più la Presidente, quindi possiamo iniziare. Come stavo anticipando, mi è stato richiesto un breve intervento da parte di uno dei consiglieri, un intervento che concediamo in apertura di seduta. Grazie Presidente. Cittadini e colleghi, è notizia di stamane che è deceduto Dario Fopo. Non servono presentazioni, chiedo all'Aula un minuto di silenzio. Grazie. Bene. Concediamo quindi un minuto di silenzio e... Tutti in piedi. Grazie. 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 rispondere a sei interrogazioni e passare poi alla discussione delle emozioni che sono oggi all'ordine dei lavori. Ci sono obiezioni? Ho peccato di una cosa, dovevo dichiarare che uscivo dall'aula perché voglio che sia messo a verbale durante il minuto di silenzio e lo dovevo dichiarare, non lo sapevo, pensavo fosse sufficiente. Va bene. Invertiamo quindi l'ordine dei lavori e iniziamo? Mi sembra che non ci siano obiezioni. No, ci sono obiezioni. Io capisco che l'aula naturalmente può votare l'inversione dell'ordine del giorno, però rispetto alle due emozioni presentate che risultano al primo e al secondo punto all'ordine dei lavori. A noi fa molto piacere che ci siano anche gli assessori e la Presidente del Municipio, quindi ritengo che si debba rispettare l'ordine prestabilito nella conferenza di capigruppo. Grazie. Sì, la parola al Consigliere Gunnella. Grazie Presidente. Consiglieri da regolamento le interrogazioni, se non sbaglio, sono poste di regola di inizio Consiglio. Siamo sicuri di questo? Sì, verificherei se può Presidente, perché mi risulta così, magari sbaglio e invertiamo. Comunque in ogni caso, quando c'è la proposta del Presidente o qualunque Consigliere ne faccia richiesta, poi si passa alla discussione brevissima, dal parere uno favorevole e contrario e poi si passa al voto per alzata di mano, quindi lo possiamo fare tranquillamente. Quindi la sua motivazione l'ha espressa? C'è qualcuno che è stata espressa? Ah, vuole parlare il Presidente Lozzi? Bene. Allora, io volevo chiedere la cortesia, almeno per quelle a cui devo rispondere io, di farle subito, perché siccome è in corso lo sgombero del cortocircuito e stiamo in contatto anche con il Campidoglio perché c'è il rischio anche di occupazioni qua e la situazione è abbastanza seria, quindi non volevo mancare a rispondere alle interrogazioni quelle insomma che dovevo rispondere io, però vorrei avere la possibilità poi di essere libera per avere contatti con le autorità o con la Polizia Locale per capire le questioni di sicurezza del territorio e del municipio, solo questo insomma, se è possibile. Presidente, invece volevo chiedere prima se sa qualcosa che è successo su questo che è... Io vi rispondo, a me questa mattina alle 6 mi ha chiamato il comandante della Polizia Locale del settimo gruppo avvertendomi che anche loro avevano saputo nelle prime ore della mattina di questo intervento che è stato fatto dal prefetto che diceva lo sgombero del corto, quindi hanno chiuso tutte le strade con i blindati, stanno arrivando le ruspe, più di questo non so, so che il sindaco alle 10 andrà dal prefetto, però siccome la situazione è abbastanza critica perché lo conosciamo io chiedevo solo la cortesia di poter rispondere almeno alle mie e poi essere libera. Ci sono altri interventi? Per me personalmente, grazie della parola Presidente, va bene, in realtà andavano fatte le interrogazioni prima dell'appello per poi procedere, questo genera di per sé una sequenzialità, però questa è una cosa che va verificata, valutiamo la proposta della Presidente Locci e poi... Altrimenti la possibilità è di votare semplicemente, ci sono un parere contrario, un parere... Presidente, ha ragione il consigliere Cunnella, le interrogazioni vanno prima dell'appello. Allora, io vorrei ricordare che l'ordine dei lavori viene deciso nella conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari e l'ordine dei lavori è stato deciso, penso sia insindacabile. Tra l'altro noi avevamo messo all'ordine dei lavori da verbale, prima le interrogazioni, poi le emozioni. Le vediamo invertite sull'ordine del giorno, per me vale ancora quello che è stato deciso in capigruppo. Il motivo per cui si è stato invertito... Mi scusi? Io penso che queste obiezioni siano veramente piccole, basse. voglio dire, vale l'ordine del giorno, vale l'ordine... Allora, io mi sono riservata di proporre questa cosa che ha senso. Allora, a questo punto, visto che ci sono obiezioni veramente basse, direi che fa fede il regolamento. Il regolamento dice per alzata di mano. Vogliamo invertire l'ordine del giorno e fare prima... Mi scusi, Ciancio, c'è un regolamento chiaro e preciso, vorrei che lei lo leggesse. Quello che ha detto la Presidente del Municipio è il suo intervento. Io ho chiesto l'intervento della maggioranza per capire se era d'accordo con la sua idea di mantenere l'ordine del giorno. Ho diritto di farlo, l'ho fatto e adesso vorrei procedere a votazione per alzata di mano. Dopodiché, si comincia. Chi è a favore a variare l'ordine del giorno? Ah sì, abbiamo anche gli scrutatori, sì, vorrei nominare gli scrutatori che oggi saranno Tosatti, Lazazzera e Toti. Quindi gli scrutatori sono stati nominati. Adesso i favorevoli a cambiare, ad invertire l'ordine dei lavori, per ritornare a quello che era l'iniziale proposta della conferenza dei Presidenti dei gruppi consigliari. Chi è favorevole? Direi che la proposta è accolta, non c'è neanche bisogno di contare e vorrei far notare che in genere quello che viene proposto nella conferenza dei gruppi dei Presidenti consigliari fa testo e nella conferenza era stato deciso questo. Non voglio più sentire obiezioni in merito, possiamo cominciare. Per andare invece incontro alla Presidente Lozzi, direi che iniziamo con le sue interrogazioni, visto che anche l'opposizione è d'accordo. Iniziamo quindi con l'interrogazione numero 4, che è quella presentata in data 21 settembre 2016 dei consiglieri Cercuoni e Carlone, avente ad oggetto il bar interno della sede di Cinecittà. Può illustrare la consigliera Cercuoni? Grazie Presidente, sarò molto rapida. Per quanto riguarda il bar interno a Cinecittà ce ne siamo occupati in diverse commissioni della scorsa consigliatura, nella commissione controllo e garanzia che presidevo. Questo perché, come ben sapete, al bar era legato un progetto sociale per il quale venivano accolti nell'ambito del servizio di ristorazione e di somministrazione anche persone con disabilità e con problemi, che venivano specificatamente individuate dai servizi sociali. Non mi dilungo, visto che è abbastanza chiaro l'intento della mozione, ed è quello di portare alla riapertura del bar, ovviamente, con gli step che sono necessari in considerazione del fatto che noi oggi abbiamo una società, una cooperativa se non sbaglio, una società in liquidazione e quindi anche all'interno dello stesso bar, io ricordo, avendo avuto diverse volte appunto in commissione anche il Presidente della società, insomma, Banconi e anche altri arredi che erano di proprietà di questa società e quindi se la domanda che pongo e l'interrogazione ovviamente abbastanza retorica sulla necessità di riaprire il bar, per il fatto che mi sembra, parrà banale, ma un elemento essenziale all'interno del municipio di Cenecittà in considerazione del passaggio di utenza che abbiamo e anche dei lavoratori interni alla sede, parlo della Polizia Municipale, nonché dei servizi che sono all'interno di questo stabile, quindi qual è l'anagrafico e i tempi ovviamente per l'espletamento di una gara d'appalto o quello che mi è aggiunto all'orecchio di un eventuale bando, qual è insomma l'intenzione di questa amministrazione? Grazie mille. Ah, scusi, scusi, volevo nello specifico capire se l'intenzione era sempre quella di proseguire un discorso sociale o invece avevamo cambiato rotta, ecco. Allora, intanto è in corso il rilascio forzoso dei locali perché era già da tempo che dovevano liberare i locali non era stato fatto, quindi era stata attivata la procedura e in questi giorni la cooperativa sociale sta liberando l'immobile, immobili che sono comunque di proprietà della Polizia locale, quindi poi con loro che si dovrà avviare tutto il processo per capire come riattivare il servizio. Siamo tutti concordi che il servizio bar era un servizio utile alla struttura, quindi è quella la direzione in cui si andrà, si andrà in direzione di una procedura assolutamente pubblica per l'affidamento del servizio, quindi nessun affidamento diretto. Si stava valutando per capire un attimino, e lo potremo anche fare insieme nelle commissioni senza nessun problema, perché l'idea più che riaffidarla a delle cooperative sociali era capire se era possibile fare delle start-up giovanili, garantendo però il riassorbimento del personale precedentemente impiegato nel bar e magari l'inserimento di una persona segnalata dai servizi sociali, così da garantire anche la parte sociale del progetto. Però è una valutazione che possiamo fare insieme appena abbiamo i locali in nostro possesso e sempre in accordo con la Polizia locale perché sono loro i locali, quindi comunque qualsiasi cosa e qualsiasi tipologia di procedura o di progetto vogliamo portare avanti, dobbiamo sentire anche il loro parere. Sì, consigliere la circolazione. Non ho capito bene la tempistica, cioè nel senso che ad oggi... Ad oggi stanno liberando i locali, io sentirò il direttore in questi giorni, appena lui mi conferma che i locali sono nuovamente in nostro possesso, possiamo tranquillamente fare una commissione e parlare insieme di come portare avanti il bando. Passiamo quindi alla interrogazione numero 12, che è quella presentata in data 21 settembre 2016 dai consiglieri Cerconi e Carlone, avente ad oggetto il centro civico via Polia, via Mantea, che tra l'altro è stato già oggetto di discussione in commissione. Ah, ok, allora, la Presidente è al momento impossibilitata, quindi andremo dopo all'interrogazione numero 12 e possiamo passare come da ordine all'interrogazione numero 6, presentata sempre il 21 settembre dai consiglieri Cerconi e Carlone, avente ad oggetto il rifacimento dei marciapiedi di via Furio Camillo. Consigliera Cerconi può illustrare? Sì, anche questa molto rapidamente, ovviamente l'interrogazione è un'interrogazione che è stata riproposta nel corso del tempo almeno 5-6 volte, perché il problema non è stato risolto e ovviamente riguarda non solo Furio Camillo, come ben saprà l'assessore, ma riguarda un po' tutta la zona dell'ex nono municipio, ossia quella parte che è stata rifatta con un mattonato assolutamente inadeguato, perché sono delle pastrelle, non credo poggiate male, io penso dipenda anche dal terreno sottostante, quindi in realtà è implicito che essendoci un terreno abbastanza franoso, queste diventano delle piastre basculanti, praticamente si si poggia il piede e si rischia di cadere, questo succede su Via Gallia, succede su Piazza Redi Roma, però la situazione di Furio Camillo è stata una situazione abbastanza urgente, che si è proposta in maniera abbastanza importante nel tempo e quindi è per quello che è principalmente sulla situazione di Furio Camillo, ma che poi ovviamente riguarda un po' la situazione in generale dei marciapiedi, però non l'ho fatta tutta insieme perché sarebbe stato esagerato chiederle oggi il rifacimento di tutti i marciapiedi con le piastrelle che hanno messo, quindi ho chiesto esclusivamente sia i costi del rifacimento che i tempi degli interventi e ovviamente se mi sa indicare su che punto l'amministrazione intende intervenire in considerazione del fatto che penso che sia un po' impossibile, non abbiamo i fondi per rifare tutto. Grazie. Buongiorno a tutti, intanto la ringrazio per l'interrogazione. Il problema di Furio Camillo, mi soffermo su questo perché poi è la madre di tutti i problemi. Appena ci siamo insediati abbiamo subito affrontato questo problema con l'intenzione di risolverlo. Studiando le carte abbiamo già visto che anche la precedente amministrazione aveva più volte richiesto la soluzione del problema al Dipartimento. Questo perché faccio un piccolo escluso che molti di voi sanno, magari la maggioranza no. Furio Camillo è stato terminato nel 2007, è mai stato preso in carico dal municipio proprio perché le opere che sono state fatte si sono subito ammalorate e quindi il collaudo non è passato per questo municipio quindi non l'abbiamo mai preso in carico. Quindi lì ci troviamo su un suolo che non è di competenza municipale, ancora è di competenza dipartimentale nello specifico del Dipartimento Parcheggi. Allora siamo andati direttamente al Dipartimento Parcheggi perché è intenzione di questa amministrazione, di questo assessorato, risolvere il problema una volta per tutte. Visto che, come lei già scriveva nell'interrogazione, stiamo pagando, l'amministrazione comunale paga i risarcimenti di tutte le persone che giustamente fanno denuncia in quanto cadono continuamente su via Furio Camillo. L'abbiamo affrontata su due punti di vista, sia tecnico che amministrativo. Dal punto di vista tecnico abbiamo notato che lì gli errori sono stati fatti anche di posa, soprattutto progettuali, perché è stata posata una mattonella con lato lungo parallelo alla via, avendo una notevole discesa. Questo comporta che un'errata sigillatura ha fatto sì che acqua e polveri e sabbia andassero sotto la mattonella e quindi questa veniva poi sollevata. Quindi abbiamo il sottofondo completamente andato a male, la sigillatura non eseguita bene, sono dei lavori non fatti bene. Dal punto di vista tecnico quindi abbiamo chiesto al nostro ufficio tecnico, che ci ha prontamente risposto, di fare una valutazione di costi per ripristinare i marciapiedi così come sono con le mattonelle esistenti, togliendoli, facendo il sottofondo, cambiando però la posa, mettendo il lato corto parallelo al a viale Furio Camillo e una sigillatura corretta di tutte le fughe. Oppure prevedere una tipologia di soluzione diversa, sicuramente più economica, che era quello di mettere l'asfalto, visto che comunque questo viale in parte ha già una pista raciclabile, parte di una pista raciclabile che sarà poi oggetto di progetto futuro, già asfaltata. Quindi in quel caso si andrebbero a togliere le mattonelle, che saranno tutte comunque conservate perché sono 2.500 metri quadri di mattonelle, è un patrimonio nostro e quindi verranno comunque sia immagazzinate e riutilizzate in futuro. E verrà predisposto un'asfaltatura su dove c'erano le mattonelle, questo per dare una soluzione definitiva alla questione. L'ufficio tecnici ha fatto tutti e due i preventivi, quindi noi siamo a conoscenza di quanto ci costano le due soluzioni, ovviamente quella con l'asfalto ci costa meno. A questo punto siamo andati direttamente in dipartimento e abbiamo detto loro che abbiamo intenzione di risolvere il problema direttamente anche noi dal municipio. Ora dal punto di vista amministrativo ciò non è possibile, quindi abbiamo chiesto all'avvocatura di trovare quale soluzione noi possiamo intraprendere, legale, per far sì che possiamo intervenire direttamente noi come municipio e risolvere il problema una volta per tutte. I tempi, i tempi, intanto aspettiamo la risposta dell'avvocatura, appena ci darà risposta noi ci muoveremo in tal senso. Sì, mi sono perso un attimino i costi degli interventi, cioè parliamo di quanto, perché poi effettivamente sono lavorato per l'asfaltatura? Sì, i costi di operazione sono intorno ai 120-125 mila euro per l'asfaltatura. L'altro è intorno ai 250 mila euro, è più costoso togliere le mattonelle, ripulirle una per uno, questo è un lavoro che si fa manualmente, voi immaginate 2500 metri quadri di mattonella, toglierla una per una, ripulirla, rifare sottofondo, utilizzare dei collanti specifiche e poi fare il rispaccio delle mattonelle perché magari alcune andranno perse e quindi l'esborso è superiore, ma pensiamo che progettualmente sia comunque una soluzione pericolosa perché potrebbe ricrearsi in qualche modo il problema, quindi noi pensiamo che l'asfaltatura sia una soluzione definitiva. Mi scusi per capire, sicuramente l'avrete chiesto, non è possibile accollare i costi alla società o è fallita? È fallita nel 2012, grazie per questa cosa, me l'avevo dimenticata, questa ditta che ha fatto i lavori e che quindi doveva essere richiamata a rifare i lavori perché fatti male, dal 2007 già si sapeva che erano fatti male, nel 2012 è fallita, in 5 anni io non lo so cosa è successo e perché non si è semplicemente chiamata la ditta al proprio dovere, non le so rispondere su questo. Benissimo, passiamo quindi all'interrogazione numero 12 che avevo iniziato a rientrodurre prima, quella sul centro civico Via Polia, Via Mantea, la consigliera Cerconi. Sarò rapidissima perché ne abbiamo parlato a lungo, anche ringrazio la Presidente per essere stata presente, non mi dilungo nel ripetere tutta la vicenda che conosciamo ampiamente e è stata dibattuta anche questa per circa 6-7 volte nella scorsa consigliatura, la Presidente Lozzi se ne ricorderà sicuramente anche le mie interrogazioni della vecchia consigliatura, però ci tenevo a rileggere esclusivamente l'interrogazione, quindi l'attuale stato della struttura che è quello che ci interessa, l'instaurazione di tavoli di confronto abbiamo capito che si sta tentando e che una delegazione congiunta anche con le altre forze politiche si regherà in Dipartimento, la responsabilità giuridica in caso di danni a cose o persone e la regolarità di attività all'interno della struttura non disciplinati all'atto di affidamento che prevede il controllo e la guardiania. Questo glielo chiedo perché è uscita anche l'altra volta, poi purtroppo sono stata avvisata che all'interno del centro quello che io ho detto è stato riportato male e tendo a chiarirlo, nel senso che io ho detto che nel momento in cui all'interno di una struttura pubblica ci sono delle attività economiche, queste attività economiche se non sono regolari vanno controllate e sanzionate. Io ovviamente mi aspetto questo tipo di atteggiamento dall'amministrazione, fermo restando il fatto che per il collaudo o per una presa in carico da parte del municipio o del comune, insomma poi vedremo com'è la situazione e ne riparleremo, però un controllo su quello che succede all'interno quando io vedo locandine con richieste di soldi come se fossero attività economiche, un controllo in quel senso sarebbe importante. Grazie. Come ha ben detto la consiglia Cercunini, abbiamo già parlato per due volte nella commissione controllo e garanzia, attualmente quella struttura non è una struttura pubblica, quindi noi non abbiamo la titolarità per dire alla polizia locale vai a verificare a nome del municipio ciò che accade all'interno della struttura. Attualmente quella struttura è ancora in carico alla società che attualmente è fallita e c'è un procedimento fallimentare in corso, quindi come qualsiasi proprietà privata è poi o il curatore fallimentare o chi per lui che deve attivarsi per chiedere contezza di ciò che avviene all'interno di una struttura che attualmente non è pubblica. Dopodiché siccome sono comunque opera scomputo che invece dovrebbero e dovevano essere acquisite a patrimonio comunale ed essere quindi poi poter essere assegnate attraverso bando pubblico, noi per questo ci stiamo attivando e come ho detto vi farò sapere entro la prossima settimana quando il Dipartimento ci darà l'appuntamento perché noi quello che possiamo fare è sollecitare il Dipartimento a fare un collaudo parziale dell'opera. Collaudo parziale perché il progetto definitivo delle opere scomputo non è stato rispettato al 100% perché sono state realizzate solamente in parte e quindi per la parte mancante comunque il Comune di Roma è creditore nei confronti della società fallita e quindi dovremmo chiedere al Dipartimento se attraverso l'avvocatura ci siamo costituiti comunque nel procedimento fallimentare per chiedere conto degli oneri che invece non sono stati tramutati a scomputo e stiamo anche pronti a intraprendere qualsiasi azione legale per danno erariale nel caso in cui si configurasse. Quindi attualmente poi è intervenuta anche la procura sulla struttura ad agosto, sono venuti a richiedere gli atti in questo municipio, non so rispetto a quale denuncia si è attivata, quindi noi quello che stiamo cercando di fare attualmente è collaudare la struttura, riprenderla in carico, capire quali danni erariali sono stati subiti comunque dal Comune e da questo municipio e rimettere poi a bando una volta che saremo i proprietari quella struttura con tutti i servizi. Fermo restando che ad oggi noi non abbiamo, non essendo i proprietari, potere di poter dire a nessuno vai dentro e controlla. In teoria il curatore fallimentare, visto che quello è comunque proprietà ancora della società, dire vai a verificare cosa c'è all'interno della struttura. Grazie. Solo una precisazione che in realtà questo municipio ha preso in carico lo stabile nel momento in cui l'ha affidato e sull'ordinanza in realtà c'è scritto che nelle more del completamento del collaudo noi come municipio, non lei, sto parlando di noi come municipio, lo stiamo affidando. Ovviamente lei mi risponderà che l'atto è illegittimo, ma con quell'atto il municipio si è fatto carico di una struttura. Nel momento in cui si fa carico di una struttura per affidarlo a determinate associazioni il problema a noi si pone, perché in un momento successivo, quando verranno segnalate le responsabilità, si potrà anche dire che in questo per i precedenti non parlo perché è evidente insomma quello che è successo, però nel momento in cui mi rivolgo ad una nuova amministrazione e la nuova amministrazione ovviamente prende le distanze dalla vecchia perché nessuno mai avrebbe avuto il minimo una lucidità per fare una cosa del genere perché è rischiosissima, cioè se là dentro qualcuno si fa male, il responsabile io credo che ad oggi giuridicamente sia l'ente che ha fatto l'affidamento. Questo è da chiedere perché ovviamente in quel caso io starei anche attenta a come si intende muovere questo municipio, intendo come amministrazione, perché effettivamente poi c'è stato un municipio che nella scorsa consigliatura addirittura, e questo però parlo come municipio, come figura istituzionale del Presidente, ha dato l'ok per dei lavori all'interno ed è stato chiesto al Presidente del Municipio l'ok per i lavori, non con una prassi normale perché se io faccio i lavori a casa mia non vengo di certo a chiederle a lei se li posso fare, è stato chiesto al Presidente, all'ex Presidente del Municipio perché effettivamente quella struttura è stata presa in carico dal Municipio e poi consegnata alle associazioni. Allora rispondo anche a questo, il fatto che ci sia un atto in cui si dice che il Municipio ha preso in carico non significa che sia lente ad averla presa in carico perché l'immobile è stato dato ad un assessore, la parte politica non prende mai in carico immobili pubblici, sono atti amministrativi che prendono in carico, se poi uno illegittimamente scrive su un atto che il Municipio ha preso in carico nel momento in cui quell'atto non è valido, non è il Municipio o gli uffici che ne rispondono ma la singola persona che illegittimamente ha fatto quell'atto. Quindi qualsiasi cosa succederà in quello stabile, qualsiasi cosa andrà contro la legalità di quello stabile, chi se ne assumerà la responsabilità non è l'ente municipio ma il soggetto fisico che ha praticamente stipulato tutta una serie di atti illegittimi che non rispettano i regolamenti e che quindi se ne assumerebbe responsabilità in prima persona, il primis il Presidente, l'assessore che mi sembra fosse Perifano che ha preso in carico la struttura e se c'è stato anche un ok da parte del Municipio nei lavori nella scorsa consigliatura, la Presidente che ha dato l'ok. Volevo sapere a questo punto, per mettere a verbale, visto che già sono state dedicate due commissioni contro le garanzie a questo, quindi penso il problema sia abbastanza sentito, è stata fatta un'interrogazione, se la consigliera è soddisfatta o no, abbiamo dimenticato prima di chiederlo, da regolamento va chiesto per metterlo a verbale, me lo facevano notare adesso, soddisfatta della risposta. Soddisfatta? Devo dare un voto a Moni. No, no, me lo stanno facendo notare da regolamento. No, no, è una battuta, nel senso se si può ammettere che sono soddisfatta, nel senso che so qual è la situazione, lo volevo far presente in consiglio che secondo me è il caso di intervenire, poi ovviamente Monica risponde che in questa situazione non può intervenire, quindi ne prendo atto, ecco. Ok, grazie, è un gesto formale purtroppo da regolamento, non me ne vogliate, infatti nelle precedenti non l'ho neanche chiesto e me ne scuso, allora salutiamo la Presidente che va via e passiamo alle successive interrogazioni, sempre nell'ordine, l'interrogazione numero 10, sempre presentata in data 21 settembre 2016 dai consiglieri Cerconi e Carloni, avente ad oggetto il teatro Villa Lazzaroni. Consigliera Cerconi vuole esporre lei? Forse la prossima volta ne mettiamo un po' meno perché potrebbe risultare noiosa la mia voce dopo un po', visto che negli ultimi anni ne ho scritte parecchie. Allora, il teatro di Villa Lazzaroni è un altro annoso problema che abbiamo riportato sempre nella Commissione Controllo e Garanzia degli scorsi anni e il problema che si era posto, lo dico in poche parole e poi insomma se l'assessore vuole farci più un escursus di quello che è successo, è il seguente, noi siamo arrivati più o meno allo scorso anno con un completamento dei lavori, dopo una serie di vicissitudini che hanno visto anche un ingente apporto pubblico nel rifacimento di tutta quell'area. Ora, si ponevano diverse questioni al termine dei lavori, la prima era il fatto che ci siamo accorti di un completamento parziale, cioè mancavano effettivamente all'interno più o meno 300 mila euro di lavori, quindi parlo di poltrone, di insomma elementi aggiuntivi al teatro e non solo, nel senso che questo però risulta a me, non so se è corretto, l'area dove sorge il teatro, ma io credo tutta la particella di quell'area in realtà non è di proprietà del Comune, questo però confermatemelo nel senso che io ricordavo che era di proprietà in realtà non so se di un istituto religioso o di cosa, questo vorrei sapere se è possibile verificarlo e soprattutto poi la mancanza di alcune autorizzazioni da parte dei vigili del fuoco. Tutto questo era emerso in una commissione controllo e garanzia con un atto che c'era stato dato anche dagli uffici per renderci conto della situazione. Ora al di là di quello che è successo a me preme, questo l'ho detto tante volte, vedere come, piuttosto che il problema, come lo possiamo risolvere, perché il teatro chiuso da tanto tempo in realtà è se non l'unico credo teatro pubblico della zona dell'Appio Latino ed è un punto in realtà di ritrovo e anche di possibilità di attività per le molte associazioni culturali che ci sono veramente importante, quindi l'interrogazione ha l'obiettivo più che altro di capire l'attuale stato del teatro che è principale e poi ovviamente cosa si intende fare una volta realizzate tutte le opere, perché le dico se, e chiudo così così non mi dilungo, se noi abbiamo 300 mila euro più o meno calcolate in cui ovviamente di lavori da fare, in più ovviamente nel momento in cui non facciamo un bando dobbiamo essere consapevoli che un teatro del genere sicuramente non lo prenderà o non lo potrà prendere in carico neanche per un giorno la piccola associazione culturale che intende magari anche farci un bellissimo lavoro sul sociale, quindi non so, integrando persone che hanno delle problematiche e quindi rendendolo veramente fruibile al territorio, questo lo dico perché potrebbe essere anche un'idea fare un bando con delle associazioni che si occupano anche, insomma, oltre che di culturale, proprio di sociale e quindi ci dovremmo in quel caso invece indirizzare verso delle grandi società che possano anche apportare una quantità di denaro importante, però sono obiettivi che questa amministrazione si deve dare, ecco, grazie. Allora, innanzitutto grazie per l'interrogazione perché è un modo per spiegare ai consiglieri, al Consiglio e anche ai cittadini che ci seguono e che sono anche presenti come sono stati spesi i soldi in passato. Allora, io nella sua, nella vostra anzi, sono a duplice firma, nella vostra interrogazione leggo degli ammontari circa 235 mila euro, sono delle somme ottimistiche, purtroppo non è così. Io voglio fare un escursus, diciamo, innanzitutto il teatro è un piccolissimo teatro, è molto piccolo, ha una capienza di 170 posti ma poi sulle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco si riduce a circa 120-130, quindi è piccolino, è un teatro di quartiere. Le somme che sono state stanziate ad oggi, nel 2011 sono state stanziate dalla Regione Lazio, 585 mila euro, a cui si è aggiunta anche un finanziamento comunale di circa 290 mila euro. Quindi il totale dell'intervento è stato di 875 mila euro. in più, durante i lavori, sono stati rinvenuti altre necessità di opere edili da effettuare che non erano state ricomprese nell'appalto e quindi si è utilizzato anche il ribasso d'asta. Quindi 875 mila euro pieni pieni, tondi tondi, utilizzati. Quindi io mi aspettavo che dopo tutti questi soldi il teatro fosse realizzato, fosse completo. E invece no. Non è completo. Pochissimo. Adesso vi dico quanto manca. Naturalmente nell'appalto affidato con procedura negoziata, in passato non erano stati previsti gli interventi per gli arredi. Quindi mancavano. Ad oggi io ho fatto una vita, allora innanzitutto noi come amministrazione, io in prima persona mi sono attivato subito perché capisco l'importanza di avere un teatro in zona, un teatro di quartiere nella zona, che effettivamente manca. E quindi ho fatto già un sopralluogo, ho fatto già in sopralluogo prima ancora dell'interrogazione, mi ero già interessato della questione. E ho chiesto anche agli uffici di quantificare quali sono le necessità, sia da un punto di vista di lavori edili, sia da un punto di vista di arredamenti, tutto. Allora, ad oggi mi è stato detto, quindi dai nostri uffici, che gli interventi da realizzare sono relativi alla copertura edili, sono relativi alla copertura laterale, perché sono stati oggetto anche di atti vandalici durante gli anni, diciamo questi, e quindi si è ammalorato anche la copertura ed è oggetto di infiltrazioni. Io ho chiesto un preventivo e gli uffici mi hanno risposto che è previsto un lavoro di circa, per lavori edili, di circa 180 mila euro. Ancora. IVA compresa, chiaramente, stiamo parlando IVA compresa, che nei lavori non è scontato. Cioè ogni volta, infatti le 300 mila euro di cui lei le parlava, è vero, è stato oggetto di un preventivo durante l'amministrazione precedente, però erano senza IVA, quindi netti. Quindi effettivamente costava 3,60, 3,70. Questo era la montata. Ad oggi ho questo preventivo, 180 mila euro di lavori, più un 90 mila euro di arredi. Rispetto al preventivo precedente, io ho voluto spingere gli uffici per dare una piccola riduzione, perché mi sembrava abbastanza esagerato spenderci, non so quanti erano previste solo per gli arredi. È un teatro di quartiere, ma allo stesso tempo non volevo togliere la dignitosità ad un teatro che è necessario, l'unico che è necessario che abbia. Quindi siamo arrivati ad un equilibrio che era quello. Parliamo sempre di somme, IVA comprese e di listino, quindi soggetti a ribasso d'asta. Quindi sarà, non lo so quanto sarà poi. Questa è la totalità. Ad oggi quindi il teatro non è completo, non ha ricevuto l'autorizzazione dei vigili del fuoco anche per l'agibilità e quindi è in itinere questa attività. E tornando a bomba su quello che è l'intenzione di questa amministrazione, io mi sono impegnato già per reperire i fondi, perché ci abbiamo speso 875 mila euro e magari voi in quanto consiglio, consiglieri potrete anche indagare su come sono stati spesi questi soldi e nei vostri poteri. Però in ogni caso non è una giustificazione per lasciare abbandonato un teatro. Quindi è intenzione di procedere richiedendo dei fondi per il finanziamento e per il completamento del teatro una volta per tutte e l'obiettivo è quello di darlo quindi non alle grandi società, perché se chiediamo l'intervento degli arredi noi forniamo chiavi in mano alla comunità locale e darlo chiaramente con bando pubblico naturalmente, visto che sembra una rivoluzione rispetto a quanto era stato fatto e è stato fatto in precedenza, diciamo facendolo fruire in modo più consola alla cittadinanza locale, alle scuole comunque della zona. Poi l'idea dobbiamo comunque elaborarla, l'obiettivo è quello di realizzarlo, di completarlo e di metterlo a disposizione di tutti, tutta la cittadinanza del quartiere. Gli interventi eventuali, quelli programmati, riguardano non soltanto il tetto, quindi questo famoso tetto, ma anche riguarda il rivestimento esterno e degli interventi anche sul vialetto che da via Appia collega direttamente al teatro, tanto per dare una valorizzazione maggiore al tutto. Speriamo che riusciamo a darla alla comunità il più presto possibile. Grazie. I tempi immagino non ci siano, il primo era questo, il secondo e non l'ho scritto però permettetemi perché siamo in grado in questo municipio di accedere a dei fondi europei, perché per esempio per la cultura potrebbe essere una soluzione, perché a me purtroppo dispiace dirlo ma anche per altri atti, quando noi pensiamo di trovare dei soldi in bilancio comunale per farci qualcosa, la triste realtà è che probabilmente non ci saranno neanche per il nostro carissimo teatro e considerando che a bilancio con il municipio abbiamo zero, forse pensare anche a dei bandi europei a cui possa partecipare l'ente potrebbe essere una soluzione. Il secondo, lei mi ha fatto venire un'altra domanda, che è visto che di atti vandalici e questo mi preme però non è oggetto dell'interrogazione, lo sarà di un'altra, probabilmente ne parleremo nella commissione preposta, gli atti vandalici all'interno dell'ex nono municipio sono un grandissimo problema, non solo per il teatro ma anche per altre zone, quindi noi rischiamo anche che pur facendo dei lavori, poi dalla mattina alla sera ci troviamo che qualcuno è entrato dentro al teatro, quindi secondo me, e questo va valutato però, è un'altra questione verificare un attimino anche come poter tutelare tutta la parte, la sede dell'ex nono municipio. Comunque mi ritengo abbastanza soddisfatta, purtroppo la situazione è quella che è, quindi loro giustamente fanno un excursus di quello e mi danno lo stato dell'arte, non è che per il momento, insomma, quello che è. Posso continuare se vuoi a risponderle a quello che ha. Allora, per quanto riguarda i fondi, io non lo so, vedremo, non lo so. Per quanto riguarda invece i fondi europei, io volevo informarla che già in una memoria di giunta è stata approvata e da intenzione di questa abbiamo dato una direttiva al direttore di cominciare a reperire personale per organizzare un ufficio europeo, con personale interno, che dovrà essere coadiuvato da persone esterne in esperte, con un progetto da qui a qualche anno che ha l'intenzione di rendere autonomo il municipio nella gestione e nel reperimento dei fondi europei. Quindi ci stiamo già lavorando ed in giunta è già stata approvata una cosa in questo senso. Per quanto riguarda la sorveglianza, idem. Abbiamo preso coscienza che anche nel teatro di Villa Lazzaroni, comunque in Villa Lazzaroni è rimasta incustodita e quindi abbiamo dato già, diciamo, una direttiva affinché ci si occupi anche della chiusura, dell'apertura dei cancelli. Comunque una piccola vigilanza minima che è necessaria per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone. Cioè però, cioè nel senso noi abbiamo già una parziale vigilanza, secondo me... Parziale vigilanza, ho detto bene. Purtroppo non posso andare io a chiudere, io ho fatto... No, scusate, sarà oggetto sicuramente magari di una commissione, lo convocheremo, mi auguro però che per quanto riguarda l'ufficio personale interno e il controllo e la gestione di questo ufficio non ci siano incarichi esterni perché se no poi andiamo a cercare di prendere soldi dall'Europa ma abbiamo poi un carico sull'amministrazione che è abbastanza importante e chiudo, poi ne riparliamo sicuramente. Io guardate, nella scorsa consigliatura avevo proposto una cosa, invece di aprirlo al territorio, nel senso di fare un gruppo di cittadini, e questo magari può anche under 35, specializzato in europrogettazione, con valutazione dei curriculum, ma chi vuole partecipa, i quali in realtà non vengono, e questo succede in molti casi, non vengono pagati per il progetto, ma vengono pagati su una percentuale della realizzazione del progetto, che è la cosa, secondo me, migliore, ma questo lo dico perché tanti giovani, insomma, tanti giovani capita di lavorare così e questa sarebbe una bellissima opportunità che io avevo lanciato anche nella scorsa consigliatura, quindi magari può essere presa in considerazione. Rispondo per, stiamo divagando un po', stiamo divagando, rispondo solo per cortesia, in quanto è proprio così, nel senso che non sarà, non è previsto nessun costo per l'amministrazione, quindi è basato su un coinvolgimento sulle percentuali dei bandi che poi vengono dati in caso di vincita, non Tucur. Questo è. Grazie. Allora, vorrei fare un piccolo intervento per dire di cercare di rimanere in tema e di attenersi un po' anche al regolamento, no? Non sono previsti, non è previsto il dibattito. Penso che per temi, come ha detto anche la consigliera Cerconi, che richiedono approfondimenti, la sede poi effettiva sia quella delle commissioni. Quindi, per oggi cerchiamo di tenerci solamente a quello che è previsto per la procedura della risposta alle interrogazioni orali. Grazie. Passiamo quindi all'ultima interrogazione che è stata presentata in data 23 settembre dalla consigliera Cerconi. No, no? È stata fatta? La 11? Ah, no, la 11. Avete ragione voi? Ho saltato io un'interrogazione. Allora, passiamo alla numero 11, che è quella del 21 settembre, sempre presentata dai consiglieri Cerconi e Carlone, avente ad oggetto la razionalizzazione delle linee ATAC. Mi scuso, questa proprio la stavo bypassando. Sì. Consigliere Cerconi o consigliere Toti che vuole illustrare? Carlone, scusi. Illustra la consigliera Cerconi, bene. No, scherzo. In realtà c'è poco da illustrare, nel senso che l'oggetto è la razionalizzazione linea ATAC, razionalizzazione, forse chi scrive, no, chi scrive io, chi l'ha pensata non ha capito che razionalizzazione non vuol dire taglio, to cure, ma significa risistemare un attimino la viabilità. In un momento in cui ci indirizziamo anche verso un trasporto sostenibile, quindi dovremo aumentare le corse degli autobus, dovremo incentivare i cittadini a non girare in macchina, ma girare con i mezzi pubblici, succede, si tagliano diverse corse. Sulla capitale ne sono state tagliate 3.000, ovviamente l'utenza è già abbastanza vessata e non è da accollare a questa amministrazione ovviamente quello che è successo negli anni precedenti, ma è una presa di coscienza importante capire che tagliare molte corse degli autobus creano poche difficoltà di movimento sul territorio. Io mi sono chiesta e penso sia utile sapere a tutti i cittadini quali e quante corse sono state tagliate nel nostro municipio, se si sta procedendo a rimodulare il piano di razionalizzazione, quindi a capire come possiamo intervenire lì dove sono state tagliate e appunto instaurare un tavolo di confronto con le istituzioni comunali per eliminarne i disagi, nel senso che noi poi ci troviamo ogni tanto, e questa è anche la poca forza che si ritrova nei municipi, nel prendere atto di alcune situazioni. Allora, io l'ho detto in diversi casi, o questo municipio è in grado, come altri municipi, di imporsi e di far presente le sue necessità, oppure qua moriamo, nel senso che non siamo in grado di gestire questo territorio. Grazie. Prima di passare alla risposta dell'assessore vorrei fare una precisazione per ricordare che è stata approvata anche una risoluzione in questo Consiglio, in cui è stato chiesto di tagliare tutta la parte relativa ai tagli sulle corse e questo va detto, perché altrimenti sembra che l'argomento non sia stato affrontato prima, è stata fatta una risoluzione votata all'unanimità, tra l'altro, che spiegava appunto che i tagli in essere veri e propri non c'erano. Vorrei anche ricordare che a proposito sono stati invitati nelle commissioni responsabili della programmazione dell'Agenzia Mobilità di Roma, quindi poi avrà modo di rispondere anche l'assessore, ma per precisazione del contesto mi sento di doverlo fare e l'Agenzia di Mobilità ha ben illustrato la rimodulazione che in realtà non ha previsto alcun taglio. Quindi adesso passo la parola per il dettaglio all'assessore, però come da ruolo voglio dire che mi viene richiesto anche di contestualizzare gli atti e le domande e le interrogazioni che vengono presentati, questo mi risentivo di dirlo perché c'è stata una risoluzione che è stata votata nella prima, se non ricordo, addirittura seduta di Consiglio dopo l'estate. Grazie. Buongiorno. La prima cosa che mi viene da dire è che su questa vicenda di ATAC è stata fatta fin qui molta confusione, quindi io cercherò di essere preciso e di usare dei termini precisi. Il termine razionalizzazione in questo caso è usato in maniera impropria, non esiste alcun piano di razionalizzazione del servizio. Io questo l'ho chiesto espressamente all'assessore Linda Meleo, l'assessore della città in movimento che mi ha detto che non c'è nessun piano di razionalizzazione del servizio, però questa interrogazione mi consente di illustrare un pochino la reale situazione del trasporto pubblico a Roma. quella che esiste al momento è una riorganizzazione del servizio ed è stata determinata da una temporanea insufficiente disponibilità dei mezzi di ATAC. Questa tematica la Presidente è stata affrontata nella Commissione di Mobilità il 14 settembre con un'informativa della Presidente, il 5 ottobre con un'audizione di Agenzia Mobilità. La situazione è questa, parecchi mezzi giacciono in officina in attesa di pezzi di ricambio, il parco veicolare è datato ed è stato progressivamente danneggiato sia dall'uso sia dallo stato delle strade che non è proprio ottimale, alcuni veicoli hanno più di vent'anni. La stima dei bus necessari per il servizio giornaliero è di 1.400 veicoli, di questi al momento ne mancano circa 200. Questo ha portato in tutto l'arco dell'anno 2016 a una progressiva eliminazione di parte del servizio nella forma di corse soppresse. In pratica ATAC sopprimeva alcune corse ma non c'era nessuna informazione alla popolazione riguardo al fatto che il servizio offerto non fosse quello realmente discusso. Quindi l'assessorato alla città in movimento ha inteso dare evidenza del servizio realmente offerto all'interno di un'operazione di trasparenza che ha riguardato diversi canali informativi. In sostanza il Comune ha preso atto di questa situazione e ha detto che la cittadinanza deve sapere quello che realmente succede. Quindi i canali informativi di ATAC e le web app che forniscono le informazioni sul transito dei bus sono stati aggiornati. Io qui cito la pagina web di ATAC riprogrammazione del servizio di superficie dal 5 settembre 2016. Da lunedì 5 settembre 2016 il servizio di superficie di ATAC bus filo bus tram è stato riprogrammato in base all'effettiva disponibilità di veicoli necessari per la gestione delle corse. Contemporaneamente è iniziato un programma straordinario di manutenzione dei mezzi per incrementare gradualmente il numero di bus e tram disponibili sino a raggiungere il fabbisogno stabilito dal contratto di servizio tra ATAC e Roma Capitale. App e siti internet di ATAC e di Roma servizi per la mobilità pubblicano la nuova riprogrammazione di ciascuna linea ad eccezione delle linee 2, 3, 5, 8, 14, 19, 30, 46, barrato, vabbè qui c'è l'elenco dei numeri, inutile che le sto a leggere tutti. La cui riduzione di servizio è contenuta nel documento scaricabile, c'è un link per verificare anche queste linee che non sono state aggiornate sui siti e sulle app. Poi c'è un ulteriore chiosa sulla rete di superficie comunque possono verificarsi ulteriori riduzioni di corse a causa di eventi come aumentata indisponibilità di vetture, deviazioni, interruzioni stradali, traffico, manifestazioni. Quindi ATAC si riserva comunque di perdere qualche corsa per cause non preventivate. L'elenco delle corse temporaneamente soppresse viene pubblicato online e aggiornato con cadenza settimanale. Quindi ogni settimana ci sta un aggiornamento. Man mano che i veicoli vengono riparati e rimessi in produzione, ATAC aggiorna l'elenco delle corse che vengono effettuate. Roma Capitale e ATAC stanno lavorando a reintegro dei veicoli mancanti, sia con riparazioni sia con nuovi acquisti. Man mano che i bus tornano in servizio le tabelle delle corse vengono reintegrate. Una volta ripristinato il parco veicolare il servizio possa tornare a fornire la totalità delle corse pianificate. Quindi non c'è nulla di definitivo in questo. Il servizio definitivo è quello stabilito ed è una situazione momentanea di ATAC nel non riuscire ad effettuare tutte le corse che fanno parte di questa pianificazione. Detto questo l'assessorato e la commissione di mobilità stanno raccogliendo le segnazioni di cittadini relative all'efficientamento delle redditi di trasporto pubblico e le stanno girando al dipartimento mobilità per la valutazione. Questo vuole rispondere al terzo punto in qualche maniera. Comunque al di là del fatto che ATAC sta lavorando per tornare alla massima efficienza. Comunque questo municipio si sta attivando per interpretare le esigenze del territorio e trasmetterle al dipartimento mobilità che poi farà le sue valutazioni e deciderà se alcune linee vanno integrate, aggiunte o altro. Non ho capito proprio la risposta. Io le avevo chiesto esclusivamente quella del nostro territorio perché sono abbastanza capace di andare sul sito di ATAC e leggermi le corse che sono state soppresse. Io volevo sapere sul nostro municipio qual era la situazione, cioè quali corse nello specifico sono state soppresse nel nostro municipio perché su Roma suppresse o come dice lei momentaneamente sospese. Questo mi interessava sapere e come il vostro assessorato ha inteso in parte superare il problema della momentanea sospensione. Il primo e il secondo per il Presidente, mi può dire la data in cui è stata fatta sia la commissione che l'atto? risoluzione? Sì, è stata fatta in un consiglio, ben lo ricordo, è stata presentata praticamente una mozione ex articolo 58 a inizio settembre. Scusate, vi dico questo perché il problema lo ripongo, cioè se il 5 ottobre avete sentito in commissione i vertici per la mobilità e questo è del 21 settembre, io in corsa non è che posso cambiare l'interrogazione? No, ma è... Cioè nel senso io la deposito prima, se poi voi giustamente fate... No, 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 io volevo dire che è sicuramente precedente l'atto, la risoluzione che abbiamo votato qui dentro è precedente. Perfetto, questo poi ci sono state delle situazioni che hanno creato del disagio dopo... No, ma io sono d'accordo. No, no, sai perché glielo dico? Perché è successa la stessa cosa su Via Polia, cioè la presenta il 21, poi mi si fa ovviamente una commissione, poi se ne parla e tutto, ovviamente uno viene in aula... Ma questo fa parte del gioco, no? Voglio dire, il regolamento dà delle tempistiche, le interrogazioni hanno tempo 30 giorni, io direi che sono stati anche abbastanza celeri nel rispondere, quindi può capitare che lei chieda una cosa e il giorno dopo è fatta, forse magari non ci sei abituati... No, 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 però per dire, perché se poi mi ti dice magari abbiamo sentito il 5 ottobre in commissione... No, l'abbiamo sentito tempo fa, almeno tre commissioni fa, quindi parliamo di qualche settimana e quindi questo volevo dire, no? Volevo dire che il tema è sentito però, ormai lo ritenevamo un po' superato perché ne abbiamo sentito parlare abbastanza, era solo per fare una contestualizzazione. No, no, sono d'accordo che ne abbiamo sentito parlare tante, il problema è che se se ne continua a parlare è perché il problema non è risolto, cioè la sospensione ad oggi delle linee, cioè comunque, allora io mi chiedo quali linee sono state momentaneamente soppresse e come si è voluto via... E no, stanno là, io l'ho capito, me lo poteva semplicemente dire lei invece di elencarmi quelle di tutto il comune. Io l'interrogazione la faccio sul mio municipio, non la posso fare su tutto il comune, capisce? Allora, io devo ritenere che il Dipartimento Mobilità ne sappia un pochino più di me su com'è organizzato il servizio, posso mettermi a spulciare tutte le linee che vengono percorse sul municipio e stare a questionare e qui me ne avete tolta una di più, qui me ne avete tolta una di meno, ma immagino che ci siano dei motivi tecnici anche perché non c'è un singolo bus che percorre una singola linea molto spesso, le vetture si intercambiano quindi operare un intervento su una soppressione di una linea in un punto comporta tutta una ricaduta. quindi io ho chiesto un'ulteriore documentazione su questo per aiutare meglio la comprensione delle cose, però confido per quanto mi hanno detto che il reintegro dei veicoli avverrà in tempi relativamente brevi, si parla di fine anno o primi 2017, quindi non mi aspetto che questa situazione venga a prolungarsi all'infinito, si stanno attivando perché questa cosa rientri, anche perché c'è il danno di immagine nei confronti del Comune sia di ATAC è evidente a questo punto. Possiamo chiudere qui l'interrogazione, passare alla prossima. Io non so se si può fare intervenire, ah no è vero devo chiedere se è soddisfatta ma non sembra essere soddisfatta. Io non so se è possibile fare intervenire perché l'interrogazione è stata fatta, in realtà chiaramente viene fatta l'aggiunta, è stato ampiamente dibattuto però il tema in sede di Commissione Mobilità, non credo che da regolamento io possa dare la parola alla Presidente che poteva fare un riassunto di tutto quello che l'Agenzia Mobilità che in realtà è la responsabile vera della programmazione perché chi programma non è ATAC, la programmazione viene fatta dall'Agenzia della Mobilità, però non posso, mi dispiace, non posso dare la parola e quindi assolutamente no. Passiamo quindi all'interrogazione numero 14 presentata in data 23 settembre dalla Consigliera Cerconi avente ad oggetto la situazione assistenza a bimbi con disabilità presso i plessi scolastici del Municipio. Allora, lei giustamente mi dirà Presidente che anche in questo caso ne abbiamo ampiamente parlato e io le ripeto che giustamente quando ho fatto l'interrogazione che era il 23 il problema si poneva perché non avevamo ancora i fondi per coprire il servizio. Quello che mi preme è effettivamente l'interrogazione e la situazione dell'assistenza dei bimbi con disabilità presso i pressi scolastici del Municipio. Io questa la ritengo rispetto anche a mobilità quant'altro, veramente un'esigenza primaria. Secondo me una società civile, il grado di civiltà di una società si misura sulla capacità di assistere le fasce meno fortunate o comunque che hanno più difficoltà di accedere a determinati servizi. La situazione è drammatica perché è vero che adesso l'assessore mi dirà che siamo stati in grado di aumentare le ore, di arrivare a 10 ore per ogni bambino, però rendiamoci conto che questa non è una critica e per spiegare come funziona che noi siamo praticamente ormai abituati ad avere dei livelli talmente bassi di assistenza che le 10 ore settimanali ci sembrano, siamo arrivati e abbiamo risolto il problema. Il problema è che sono 10 ore settimanali e bimbi con gravissime disabilità hanno praticamente un'assistenza di 2 ore al giorno, più o meno. Il problema è che la difficoltà di portare un bimbo e di lasciarlo due ore a scuola significa che un genitore lo porta la mattina ma dopo due ore spesso se lo deve andare a riprendere e questo significa gravare fortemente anche sulle famiglie del nostro territorio. Data l'importanza dell'interrogazione il 23 settembre quando effettivamente c'erano diversi problemi, le faccio un esempio, in una scuola del nostro municipio, in una classe con 23 bambini, senza alcun tipo di sostegno per un bambino che aveva delle problematiche, ovviamente la maestra aveva la EC, guarda, guardi, in una scuola del municipio un bambino è rimasto senza alcun tipo di sostegno, è la maestra che si è occupata di aiutare nelle ore mancanti questo bambino. Ora questo che cosa comporta? Comporta che in una classe di 23 uno viene seguito perché ovviamente ha magari più problematiche e gli altri non vengono seguiti, questo sicuramente le è arrivata anche una richiesta da parte di qualche genitore probabilmente sulla scuola. Questo lo chiedo perché per quanto noi ne possiamo parlare di razionalizzazione, di incremento di fondi e quant'altro, possiamo parlarne quanto vogliamo se poi i problemi non li risolviamo e quindi la necessità però di risolvere un problema come questo è evidente perché è una situazione che va bene al di là del disagio, come ho detto e lo ripeto è di primaria importanza. Allora io volevo capire prima di tutto qual è la situazione ad oggi quindi ovviamente non abbiamo avuto dei fondi che sono stati stanziati e un aumento di ore, qual è la situazione ad oggi e volevo anche un attimino capire, c'è stata una riunione mi risulta in municipio sul problema degli AIC nella quale è arrivata anche una lettera di un dirigente scolastico il quale sembra non essere stato chiamato allora volevo sapere se questo assessorato ha intenzione oltre che di dire a tutti che sono stati aumentati i fondi io ne sono molto contenta di interfacciarsi con le varie consulte, anche di interfacciarsi con i dirigenti scolastici che sono poi le persone a cui è affidata la gestione del plesso e dell'istituto. Grazie Allora sì, il discorso è questo, intanto il lavoro sugli AIC è stato fatto in modo congiunto tra me e l'assessore De Santis proprio per le competenze che riguardano i nostri assessorati abbiamo deciso di lavorare su questo tema insieme oggi lei non è potuta essere presente qui in consiglio perché sta seguendo un'emergenza su una scuola quindi ci sono io e la risposta a questa interrogazione l'abbiamo formulata insieme quindi mi appresto a leggerla proprio per non perdere alcun passaggio concordato con lei poi naturalmente farò le mie osservazioni anche rispetto a quello che ha detto Allora, la scuola nel Lazio da catalogo scolastico regionale è iniziata il 15 settembre a quella data il Municipio VII ha inviato in ogni struttura scolastica ed educativa il numero adeguato degli AIC rispetto al numero dei bambini iscritti al servizio attribuendo a ciascuno il numero massimo di ore possibili in quel momento date appunto le risorse economiche disponibili in base al PEG 2016 elaborato nella precedente consigliatura e questo lo sottolineiamo Il numero degli utenti ad oggi è 466 ma tale dato è ancora suscettibile a variazione e in incremento oltretutto poiché aumentano pressoché quotidianamente i bambini con certificazione o per trasferimento o per nuove certificazioni rilasciate dall'ASL Ad ogni buon conto comunque tutti i bambini in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio AIC hanno avuto una risposta immediata e questo lo risottolineo senza liste di attesa municipali avendo ricevuto assistenza dal primo giorno di scuola I disagi riscontrati in questo primo mese di lezioni non sono stati quindi motivati dalla mancanza di un personale idoneo La grande professionalità e l'estrema competenza nonché la disponibilità degli operatori sono stati ribaditi dalle istituzioni scolastiche ed educative convocate dall'amministrazione municipale a più riprese sul tema Gli ultimi incontri sono stati ieri che infatti tutti i dirigenti scolastici, le funzioni strumentali e anche i genitori che hanno partecipato agli incontri hanno ribadito la professionalità degli operatori quindi la professionalità e la presenza poi degli operatori Gli ultimi incontri allargati alle famiglie sono avvenuti in data 11 e 12 ottobre con la presenza congiunta degli assessori quindi io per le politiche sociali la De Santis per le politiche scolastiche Gli uffici municipali di competenza, la ASL, le cooperative dei sei lotti e le istituzioni appunto scolastiche sono stati fatti due incontri appunto congiunti e se lei ha rilevato il fatto che un dirigente non è stato convocato se mi lascia nome e cognome noi lo ricontattiamo per capire come mai non è arrivata la mail perché è stata inviata a tutti i dirigenti scolastici a tutte le funzioni strumentali ai rappresentanti dei genitori nei consigli di istituto alle cooperative cioè abbiamo fatto un massimo coinvolgimento proprio a livello proprio cittadino su questo tema proprio perché non è nostra abitudine lavorare chiusi dentro una stanza senza coinvolgere le realtà sociali che comunque sono interessate ai vari temi quindi se mi fai cortesemente mi dà nome e cognome e anche della scuola è arrivata forse alla De Santis perché io purtroppo su questo le scuole sono state convocate da lei comunque se mi ridà nome e cognome mi fa la cortesia io verificherò questa cosa e capiremo le motivazioni per cui non è stata convocata ma forse sarà stata una svissa non c'è stata nessuna intenzione di non coinvolgere visto che gli incontri sono avvenuti con circa saremmo state 70 persone ok poi andando avanti le difficoltà sono state dovute al numero di ore garantibili al 15-9 senza creare debiti fuori bilancio con l'impegno politico dell'attuale amministrazione e con il tempestivo assessamento di bilancio e anche questo va sottolineato pari a 350.000 euro fino al 31 dicembre 2012 per questo municipio abbiamo avuto quindi la copertura dal 3 al 4 ottobre stiamo reintegrando le ore di assistenza precedentemente non erogabili quindi quando non avevamo l'assessamento sono state date un monte ore arrivato l'assessamento sono state reintegrate le ore rispetto a quella che era la situazione economica con i 350.000 euro quindi diciamo che abbiamo più o meno un monte ore di 10 ore a bambino più i casi particolari arrivano anche a 12, 14, 16 naturalmente questo fermo restando che il bilancio che noi abbiamo dove abbiamo potuto lavorare è stato un bilancio ereditato e questo va molto sottolineato quindi dal 3 al 4 ottobre stiamo reintegrando le ore di assistenza precedentemente non erogabili operando un puntuale monitoraggio delle situazioni in essere e procedendo all'attribuzione di quanto necessario come comunicato durante gli incontri entro la prossima settimana tutte le scuole avranno ore e operatori adeguati inoltre è nell'intenzione di questa amministrazione procedere verso la redazione di un piano individualizzato alunna-alunno per alunna-alunno così da tenere presenti le effettive necessità delle bambine e dei bambini a garanzia del diritto allo studio obiettivo per il quale è necessaria la collaborazione dell'USR, del MIUR visto che l'IC non provveda all'insegnamento e questo anche lo sottolineo quando prima lei faceva notare il fatto del diritto allo studio l'IC non garantisce il diritto allo studio è l'insegnante di sostegno quindi l'IC non provvede all'insegnamento compito che invece spetta il personale docente ma al momento non ancora disponibile presso tutte le scuole e questo purtroppo i tagli all'istruzione non sono responsabilità politica nostra ma ai livelli superiori dove al governo non ci siamo noi e anche questo venga sottolineato e messo a verbale quindi al momento non ancora disponibile presso tutte le scuole per difficoltà legate alla gestione del ministero e alla contrazione di ore di sostegno negli organici di diritto e di fatto delle istituzioni scolastiche come emerso dalle dichiarazioni della gran parte dei collaboratori dei dirigenti scolastici delle funzioni strumentali sia di inclusione disabilità quindi la rilevazione di questa mancanza di personale dovuta al sostegno e non all'IC ed è stata rilevata non da noi come parte politica ci vogliamo notare del fatto che abbiamo garantito l'IC ma da parte degli insegnanti dei dirigenti scusi dei funzionari strumentali che hanno fatto notare come gli IC sono stati presenti come hanno anche sopperito a delle mancanze rispetto alla carenza di personale sul sostegno e quindi la situazione in sostanza è questa per quanto riguarda quello che diceva lei sulle reali esigenze questa amministrazione è molto attenta alla persona a dispetto di quello che è stato prima affermato noi abbiamo iniziato un lavoro con l'assessore commisso che è l'assessore al bilancio e con l'assessore De Santis in realtà con la De Santis per la parte che ci compete insieme quella sugli IC con l'assessore commisso su tutti i servizi alla persona a fare una puntuale ricognizione di quelle che sono le effettive esigenze dei bambini sugli IC nello specifico noi abbiamo fatto, ci siamo fatti dare dagli uffici diciamo il reale fa bisogno secondo le certificazioni bambino per bambino di quante ore oggi ha e di quanto in base alle certificazioni dovrebbe avere stesso lavoro è stato richiesto ai dirigenti scolastici è stata inviata una scheda a tutti i dirigenti scolastici alle funzioni strumentali per chiedere secondo fare un'analisi qualitativa oltre che quantitativa perché per noi le persone non sono numeri quindi al di là di quelle che sono le ore che vengono assegnate dalla certificazione abbiamo chiesto agli insegnanti di farci anche un'analisi qualitativa di quella che è la situazione all'interno delle scuole per capire se il numero di ore diciamo è adeguato anche rispetto alla singola persona perché due bambini che hanno entrambi autismo non sono comunque sono sempre due persone distinte indipendentemente dalla diagnosi che hanno quindi magari un bambino anche se abbiamo due bambini con autismo faccio un esempio le caratteristiche di personalità sono diverse quindi magari hanno esigenze no magari hanno sicuramente esigenze diverse detto questo abbiamo chiesto questa scheda di valutazione questa scheda di ricognizione valutativa ai dirigenti che a breve ci verrà restituita faremo un incontro con la ASL per matchare diciamo i vari dati quindi quelli del nostro a livello amministrativo quelli della ASL e quelli delle scuole e faremo una programmazione economica per il prossimo anno perché questo ormai è andato a chiudere adeguata al fine di non arrivare come è successo da 20 anni da 30 anni da quando c'è memoria arrivare a metà anno a fare gli assessamenti a chiedere 300.000 euro 500.000 euro per andare a copertura dei servizi noi quello che vogliamo fare è dare il giusto per ogni bambino quindi dare quello che è il reale bisogno del bambino non un monte ore forfettario e seconda cosa Assessore ma mi dispiace tantissimo mi fanno notare la tempistica e quindi appunto dare un numero adeguato per le ore per l'esigenza e fare una programmazione adeguata per il prossimo anno così da non arrivare a settembre, ottobre novembre a dover stare con l'acqua alla gola per capire se arrivano i fondi oppure no quindi ho chiuso rispondo velocemente Assessore io non capisco questo nervosismo che ogni volta lei ha nel rispondere ho fatto le domande a tutti gli assessori che con molta tranquillità mi hanno risposto tocca a lei sottolineo faccio lo sappiamo quale affermazioni ho chiesto una cosa tra l'altro se lei mi dice non è questa la sede per questioni personali e atteggiamenti penso che queste le chiarite fuori vanno chiarite fuori qui parliamo del tema e mi chiedevo se c'era qualcosa che non andava nella domanda perché la domanda mi sembra abbastanza chiara sicuramente se lei mi dice che state facendo questo visto che io nell'interrogazione ho chiesto appunto per ogni utente volevo sapere qual era la situazione visto che si sta procedendo a farlo farò un accesso agli atti riguardo a questo e in modo tale che mi informerò persona bambino per bambino qual è la situazione volevo solo dire la riservatezza le dati sì 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 la riserva certo ma nessuno di noi penso voglia esagerare io non capisco però sono sincera su questo su un'interrogazione così serena in cui state facendo un ottimo lavoro mi chiedo qual è l'ansia di rispondere ad una cosa del genere proprio per questo mi chiedo qual è il problema comunque detto ciò ovviamente detto ciò detto ciò ovviamente continueremo a controllare in modo tale che farò questa cesta agli atti e verificheremo anche questo soddisfatto o non soddisfatta non è soddisfatta